Il comune di Sulmona non rinnova il contratto al custode del parco fluviale a gusto da olio. Da lunedì 21 marzo il futuro del polmone verde della città riaperto con tanto di taglio del nastro il 7 agosto 2014 è appeso a un filo. La notizia è rimbalzata anche sulla rete sociale di Facebook nel profilo ufficiale del parco. Da Palazzo San Francesco hanno comunicato al custode che il contratto scadrà il prossimo lunedì dopo l'ultimo rinnovo che risale al 19 febbraio. Quali futuro toccherà l'area verde? Chi si prenderà l'onere e l'onore di aprire d'ora in poi il parco fluviale? A quanto pare sembrerebbe che dal comune di Sulmona mancherebbero i fondi. In tanti in questo momento auspicano che la situazione si risolva più presto perché il parco fluviale non resti chiuso come nel passato. Il pomone verde venne restituito alla comunità sulmonese dopo i lavori di ristrutturazione che furono suddivisi in due lotti. Il primo costato all'incirca 120 mila euro e l'altro 110 mila. Per la ristrutturazione furono spesi oltre 300 mila euro stanziati dal comune di Sulmona e dalla provincia dell'Aquila. I lavori hanno riguardato la scalinata, i bagni, l'impianto di illuminazione e i marciapiedi, ancora da completare l'ampliamento della zona sud. Dove andranno a finire tutti gli sforzi profusi per riaprire la struttura?